Dopo circa quattro anni di inattività al Comune di Real Monte si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni Vigata a Scala dei Turchi, preseduto dai sindaci di Real Monte, Sabrina Lattuca e di Porta Empedocle Calogero Martello. Durante la seduta è stata nominata Presidente dell'Unione l'Avvocato Sabrina Lattuca. Oltre ai sindaci i componenti del CDA sono Antonio Fugallo e Rosalia Anastasi, assessori del Comune di Real Monte, Mari Lucaci e Alessandro Palumbo Piccionello, assessori del Comune di Porta Empedocle. È stato nominato segretario dell'Unione dei Comuni Piero Amorosia, già segretario del Comune di Real Monte. Si procederà successivamente alla Costituzione dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni, costituita da consiglieri comunali di ambedue i comuni. Ascoltiamo i sindaci Sabrina Lattuca e Calogero Martello. Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia riposta nella mia persona per la nomina di Presidente dell'Unione dei Comuni. È chiaro che io ho accettato con la riserva di un'attività gestionale seria atta a verificare lo stato di questa Unione. Quindi ho già chiesto al segretario del Comune di Real Monte, l'Avvocato Pietro Amorosia, se intendeva accettare l'incarico anche di segretario dell'Unione dei Comuni. All'esito dell'accettazione da parte del segretario e con un successivo atto conferirò il mandato di porre in essere una ricognizione scrupolosa per le attività conseguenti dell'Unione. Il tentativo è quello di fare un lavoro di squadra, di crescere nella giusta direzione come diciamo sempre, che è quella della virtù, della bellezza, ma deve tenere conto anche dell'infrastruttura, dei servizi e quant'altro possa rendere più efficienti questi luoghi e più belli, più fruibili. Ringrazio il Consiglio appunto dell'amministrazione, ringrazio il collega sindaco. Si avvierà da oggi un'attività seria e scrupolosa dopo mesi e mesi di richieste e quindi cosa dire, incrociamo le dita nella speranza che questo grande lavoro di squadra tra due comuni vicini possa sortire gli effetti sperati. Perché abbiamo rimesso in moto l'Unione dei Comuni? Perché è strumento indispensabile per la gestione del nostro territorio, visto il Comune di Portempero che il Comune di Real Monte sono territori limitrofi che hanno le stesse caratteristiche, le stesse esigenze. Rappresenta per noi un momento importante visto la necessità di correre perché abbiamo e vi sono numerosi progetti che intendiamo portare a termine e che debbono passare obbligatoriamente all'Unione dei Comuni. Quindi ci auguriamo che con il passaggio di oggi si possa rimettere in moto una locomotiva importante per questi due territori.